Manto stradale pieno di buche e avvallamenti, sterpaie che hanno raggiunto un'altezza impressionante, rifiuti abbandonati ai bordi dell'arteria e che giacciono lì da mesi. Benvenuti nella strada del Can Salamone, l'arteria che collega la strada statale 115 alla zona portuale. Delle condizioni in cui versa questa importante arteria di collegamento, il nostro telegiornale si è occupato nei giorni scorsi su segnalazione di diversi cittadini. Oggi l'argomento è al centro di una interrogazione presentata all'amministrazione dai consiglieri comunali di opposizione Calogero Bono e Giuseppe Miglioti. È un po' diventata la strada sotto il ponte Can Salamone l'emblema di una condizione di degrado con riferimento in particolare alla mancata scerbatura che in realtà si riscontra in tante altre arterie e zone della città di Sciacca. Nell'interrogazione Bono e Miglioti nel sottolineare come l'arteria rappresenta ormai una viabilità alternativa di primaria importanza, soprattutto nel periodo estivo, evidenziano lo stato di degrado e abbandono in cui versa la strada. Un degrado che riguarda sia lo stato del manto stradale con buchi e avvallamenti pericolosi per la pubblica incolumità, sia la presenza di sterpaie e siepi ai bordi della strada con conseguente restringimento della carreggiata ed infine la presenza di spazzatura abbandonata da persone incivili. I due consiglieri di opposizione segnalano inoltre le condizioni in cui versa anche la segnaletica orizzontale, assai carente e che necessiterebbe anch'essa di interventi. Uno spettacolo indecoroso e non degno di una città turistica, commentano Calogero Bono e Giuseppe Miglioti, che chiedono al sindaco e all'assessore Arramo di conoscere le ragioni per le quali non sono state effettuate pulizia, scerbatura, manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la strada del Can Salamone e se intenzione dell'amministrazione intervenire per eliminare tutte queste criticità.